Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovato sul canale di coppia, Davide e Chiara Channel Benvenuti in un nuovo vlog, in un nuovo precisamente, allora, benvenuti in un nuovo video hall Fritto Misto! Bene ragazzi, iniziamo subito, entusiasmo alle stelle Allora, prima vi faccio vedere una bella cosa che mi sono comprato da MD Borsa termica, guardate questi qua sono i colori che ormai mi stanno conquistando Verde fluo e nero, questa qua è una borsa termica ragazzi, l'ho comprata esattamente perché Non la uso come borsa termica termica, la uso per metterci insomma le esche per andare a pescare Ci metto dentro le cassette della pesca in modo che non sto lì e portarmi tutto in mano Ed è molto bella, presa da MD pagata pochissimo e mi serviva ragazzi E' uscita veramente una cosa utilissima, poi passiamo, perché video al fritto misto Perché adesso passiamo a un acquisto, a un acquisto, a un po' di acquisti fatti da Primark Che sì ormai sto cadendo anch'io nella trappola di Primark Allora, anzi no, vi faccio vedere, no, facciamo prima Primark Allora, questa bella felpa, scusate, questa bella canotta, guardate che bella Sono scritto Miami, stupenda, leggera, allora questa è una XL pagata 8 euro ragazzi Ma guardate che bella veramente, cioè è bellissima, è stupenda Bella larga, non vedo l'ora di indossarla Prima si lava e poi si indossa Ma ragazzi che ne dite di questa qua, guardate Questa è una t-shirt, ma guardate Questa veramente, non so, ma la bellezza di questa maglietta è veramente stupenda Los Angeles E mi ha, mi ha tirato subito questa maglietta Questa è un po' più sentruccia eh, dico la verità Allora, questa qua è un XL sempre Pagata 10 euro Ma come maglietta ne vale veramente la pena Questa qua se viene un po' di freschetto ragazzi È fenomenale, ma guardate qua ragazzi La scritta dietro è bellissima, bellissima, bellissima Poi passiamo a un paio di pantaloncini rossi Questi qua Questi qua Per fare che Cioè Sono comodi E Chissà dove li metterò Chissà dove li indosserò Naturalmente ha la tasca dietro Però io non la uso mai E le due classiche tasche ai lati Belle capientie queste Questa qua è un bel colore rosso A me piace il rosso Ed è una Questi sono una doppia XL E pagati 6 euro Due pixel perché comunque Meglio così Meglio stare un po' comodi Larghetti Poi ragazzi Mi è salita La passione Di fare collezione Di che cosa anche Dei portachiavi Di I primar Perché solo questi qua Questi qua li vedete Li trovo solo da primar Questo è Marvel Questo è dell'Xbox Questo è Batman E questo è Coca Cola Li faccio vedere così Sono Per me sono pucciosi questi Adesso ve li faccio vedere bene A uno a uno Allora Iniziamo col primo Questo è della Marvel Cioè guardate che bello che è Mi piace tantissimo Mi piace tantissimo Ragazzi Fatto veramente bene E sono i migliori Perché durano Poi passiamo a Quello della Coca Cola Ce l'ho rosso Ma mi mancava E poi con la scritta Enjoy Questo particolare Mi ricordo La Enjoy Che usavo Batman Cioè guardate che pipi Strano Un po' strano Il faccione E le lette piccole Però non potevo Non prenderlo Ragazzi Cioè È fatto bene E poi come ultimo Portachiavi Dato che ho Il portachiavi Della Playstation Perché non prendere Il portachiavi Dell'Xbox Il joystick Purtroppo Non ho trovato Il joystick Della Playstation Ma guardate Come è fatto bene Proprio Una cosa fantastica Dovevo per forza Prenderlo Ragazzi Non potevo Lasciarlo lì Ah comunque Mi sono dimenticato Ogni portachiavi Un euro E cinquanta Cioè Proprio Un prezzo Irrisorio Veramente Molto basso Per un bel Portachiavi Poi Molto bello Bene Ragazzi Passiamo Un'altra Chicca Vediamo Facciamo vedere Prima I cartellini Una alla volta Adoro Far vedere I cartellini Allora Intanto Vi faccio vedere Qua la taglia XL Poi vediamo Se qualcuno Riconosce Può riconoscere Vediamo Vediamo Se riconoscete Qualcosa Vabbè Dai Ragazzi Ho capito Al contrario Ecco perché Ecco perché Avevo Non riuscivo A far vedere Lo stemma Al contrario Vabbè Attacchiamo Il bottone Guardate qua Che magnifica Casacca Dei New York Yankees Di qua Il simbolo New York Yankees Mentre Mentre Qua abbiamo Il baffo Della Nike Magnifica Cioè Magnifica Etichetta Magnifica Questa Etichetta Qua dietro Che fa vedere Che fa vedere Questo è Questo è L'ideale Per Per quando Viene freschetto Ragazzi Però guardate Che bellezza Cioè Appena l'ho visto Ho detto No Questa deve essere Mia Questa deve essere Mia Questa qua Un XL Ma Veste Grande Ragazzi Come XL Veste Grande E a me Piacere Stare Comodo Ragazzi Una cosa Veramente Bellissima Ragazzi Passiamo All'ultimo Acquisto Mi dispiace Perché Adesso Mi faccio Vedere Adesso Capirete Perché Mi dispiace La scatola Delle scarpe Che io Faccio Le tengo Le scatole E Yumi E Luna Si sono divertite Con la mia scatola Delle scarpe Della Nike Pazienza Allora Questo modello Si chiama Nike Air Max Alpha Trainer 4 Non so Non so se si vede Bene E adesso Vi faccio Vedere La particolarità Di queste scarpe Che Purtroppo La scatola Mi sa che Dovrò Buttarla Pazienza Anche se mi dispiace Guardiamo la particolarità Di questa scarpa Allora Iniziamo con O le suola bianca Ma guardate qua Nera Baffo nero E la scritta E la scritta Max Da una parte E Max Anche dall'altra Poi Pensavo che era Max Air Max Il baffo Rosso Da una parte E il baffo Rosso Dall'altra Qua è per farla calzare Qua Vedete Nike Baffo E questa qua È una scarpa Ragazzi È molto Molto Leggera Se faccio così Perché Ragazzi C'è la carta Ma È la punta Qua Che Rende il piede Bello Mordo Poi guardate Il particolare Della scritta Come è fatta C'è La scritta È fatta Veramente bene Guardate E che dire Dell'Air Guardate C'è È proprio La perfezione In persona Guardate Guardate Che bello C'è L'Air Ah poi Naturalmente C'è scritto Anche qua Air Max Vedete Il rilievo Tutto Quanto Ragazzi Io l'ho provata È Io sono Innamorato Delle Nike Una scarpa Veramente La carta La rimetto Perché Quando La indosso Io di questa Scarpa qua Ho il modello Nike Air Questa è Nike Air Alpha 4 Adesso Mi ricordo Il modello Comunque Io ho Vi ricordo Che è anche Le Air Max Alpha Normali Nere Ma Questa Scarpa qua Veramente Mi ha colpito Parti i colori Dalla mia squadra Del cuore Ma Un bel Abbinamento Suola Bianca Con Lire Rosso Nero Rosso Nero Rosso Nero C'è Una cosa Fantastica Veramente Una scarpa Leggera Che Per ora Per ora Per l'estate Va molto bene Anche qua Guardate la particolarità Insomma Io Potrei stare qua A parlare Per ore Sono molto Soddisfatto Di questo Acquisto E Degli altri Acquisti Naturalmente E Ragazzi Spero Spero Ripeto Mi dispiace Per la scatola Perché io Ho tutte le scarpe Nella scatola Comunque Vi faccio vedere Modello Nike Air Max Alpha Trainer 4 Io Ho invece Quelle nere Le Nike Alpha Nike Air Max Alpha Ma di questa scarpa Ve la consiglio Ragazzi Perché è leggera Ma molto bene E con una calza Fantasmino Non si sente Il freddo Il caldo Non lo sentite Assolutamente Perché la scarpa Respira Vi fa respirare Veramente Il piede Io Sono contentissimo Dei miei acquisti Soprattutto Devo dire Di tutto Però la casacca Di New York E la maglietta Di Los Angeles Con la scritta Los Angeles Di Primark Primark Ogni tanto Mi stupisce Anche lui E dei miei Fantastici Portachiavi Naturalmente Bene ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi abbia intrattenuto Vi abbia tenuto compagnia E spero vivamente Che abbiate preso spunto Da qualche acquisto Portachiavi Portachiavi Scarpetta Insomma qualcosa Che vi serva Perché sono tutte cose utili Portachiavi no Perché sono da collezione E Da fare qualche regalo A vostro marito Fidanzato Amico Fratello Insomma Sto Delirando Bene Io vi ringrazio Vi auguro Buona serata Un bacione Il solito Ia E Ciao